iniziamo bene mi ha dovuto aprire una spesa aspetta, aspetta vai, che fico io? anche la scuola non è prima o non è? no, no, lui è figo quando ci sei? ma lui sto cercando di una cosa si sente dov'è? sul coso, sul coso 3, 2, 1 via e non prendo senti si haspetta, non è? vale senti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.